Ricordiamo la statistica, Finn Balor non perde in uno contro uno, non ha mai perso in uno contro uno da quando ha debuttato il mio roster. Chi ha vinto da Daniel Demitz ha vinto Demitz. Che adesso non hanno dato a che fare con il Dem, ma perché bisogna pagare? Perché è un evento. Perché è un evento, è come se vai in cinema, è come se vai in... E' come se vai a teano. Dimon Balor, Dimon Balor. Ragazzi, è... Dimon Balor. Come è Dimon Balor? Dimon Balor, ma ciao. Dimon Balor, ragazzi. Bianco o rosso? Bianco o rosso? Bianco o rosso? Non ha annunciato, ma è Dimon Balor. Sì, e poi è tutto il dato. È Dimon Balor. È Dimon Balor. Te l'ho detto. Si è incazzato Balor, ragazzi. Ha acceso la quinta. Ha acceso la quinta. Ha acceso la quinta. Dimon Balor. Si è incazzato, come abbiamo detto nei pronosti. Quando tornerà Dimon Balor? L'ha preso un sacco di botte da Corby. Si deve svegliare. C'è zionale. Proprio lui. Incadibile. È Dimon. È Dimon. È tornato il demone. Mi gli è da piangere. Con tanto di linguaccia tattica. Mi gli è da piangere. Messaggio importante di Dimon, che non c'è manco il ringattire, è nudo sotto. Mi gli è da piangere, ragazzi. Ecco il canno che sta alla fine. Ora c'è una spiegazione a tutto. Dieci. Dieci. Guarda come gira. Immagino uno squash match di Balor. Che dovrebbe cambiare? Che è lui in versione demone? Lui tutto pitturato? Sky prima fila che numero? Chi è che guarda? Non so chi guarda. Noi siamo da Network. Non so chi guarda Sky. No, è da piangere. Io ho letto un 234 forse. Eh regia, la voglia a te. Noi andiamo alla fine. Phil Balor. Dimon Balor. Oh, l'avevo detto. Che cazzo di spoiler. Quando si ripresenterà. Ha preso un sacco le botte. Ha preso. Bello amore di mamma. Amore di mamma. Bello amore mio. Bello. Bello. Bello amore mio. Bello amore mio. Bello amore mio. Bello amore mio bello. Bello amore mio bello 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 bello. Bello amore mio bello 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 bello. bella pane mia bella pane mia da da si inchei lingua lunga bella pane mia bella pane mia prefera così però prima un demoniato un demoniato chi è quello bella 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 non ho capito come è val MR bello bello buongesso è struma ricassa si blpeta ragazzi